Marshall D. Teach, meglio conosciuto come Barba Nera, è uno dei personaggi più misteriosi e potenti di One Piece. La sua capacità di possedere due frutti del diavolo, lo Yami Yami No Mi, frutto dell'oscurità, e il Gura Gura No Mi, frutto del terremoto, ha lasciato molti fan a chiedersi come sia possibile. Ecco alcune delle teorie più popolari. Teoria del Cerbero Questa teoria suggerisce che Barba Nera abbia consumato un frutto del diavolo di tipo zoo-zoo mitologico, modello Cerbero, il cane a tre teste della mitologia greca. Questo spiegherebbe la sua capacità di ospitare più di un potere, dato che ogni testa potrebbe rappresentare un'entità separata. Teoria delle tre personalità Alcuni fan credono che Barba Nera abbia tre personalità distinte all'interno del suo corpo. Questo potrebbe spiegare perché la sua bandiera pirata ha tre teschi e perché Marco dei Pirati di Barba Bianca ha detto che il corpo di Barba Nera è... diverso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.